È una campagna importante in collaborazione con gli amici di Save the Dream che peraltro nella giornata del 22-23 saranno presenti negli stadi di calcio di Serie A e speriamo di riuscire a portare e cuorire la gente non solo i valori che lo sport rappresenta, l'importanza per molti disabili che non possono fare sport e che vedono in questo un lusso quando invece vorrebbe essere un diritto. 4558 è un numero che rimarrà operativo fino al 24 aprile a favore della mia onlus non solo per organizzare eventi ma proprio per comprare ausilii evoluti che oggi lo Stato non copre e regalare questa opportunità ad altri disabili che possono continuare a sorridere alla vita perché ci si dimentica di questo. E tutto è dedicato allo sport questa campagna per l'acquisto di questi ausili che sono molto costosi? I prezzi variano perché poi dipende anche molto dal soggetto, le protesi sono delle cose che vengono fatte un po' anche su misura in base alle esigenze, in base al tipo di sport che tu scegli di fare, però sì, diciamo che giusto per far capire a casa che cosa vuol dire più o meno i prezzi variano dai 3 ai 6 mila euro, dipende insomma senza andare a comprare necessariamente un Ferrari ma una roba di qualità è tanto. Lo Stato e me non li copre e quindi ci sono le piccole onlus come la mia che cercano di regalare questa opportunità a chi non se la può permettere. La campagna nello specifico è dedicata allo sport però va ricordato che la mia onlus promuove lo sport poiché io come atleta paralimpica ho potuto assaporare le gioie, anche i sudori, le fatiche, però le soddisfazioni che questo regala ma anche per l'attività quotidiana spesso occorrono usili evoluti che purtroppo lo Stato non copre però la campagna di raccolta fondi con l'SMS al 4558 è dedicata allo sport che regala energia e che regala sorrisi quindi aiutateci a regalare un sorriso con soli 2 euro.